Musica Pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo c'è intesa sul nuovo contratto collettivo nazionale scaduto nel 2021. Al termine di una lunga articolata trattativa e dopo numerose iniziative di mobilitazione culminate nello sciopero del 22 dicembre dello scorso anno, i sindacati di categoria Filcams, Fisaskat e Wiltux hanno siglato con le associazioni datoriali del settore, Fipe, Confcommercio, Lega Cop, Produzione e Servizi, Confcooperative, Lavoro e Servizi, AGCI Servizi, l'ipotesi di accordo di rinnovo che sarà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione nei luoghi di lavoro. Si tratta di uno dei contratti nazionali più applicati in Italia con oltre un milione di lavoratrici e lavoratori interessati dall'intesa, dipendenti dalle 330.000 imprese del settore, tra bar, ristoranti e tavole calde, fast food, pasticcerie, menze, spacce aziendali ed alle aziende di fornitura pasti preparati e menze che operano prevalentemente in regime di appalto in ospedali, scuole, fabbriche e uffici. L'ipotesi di accordo in vigore dal 1 giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2027 ha stabilito un aumento contrattuale a regime di 200 euro al quarto livello da riparametrare per gli altri livelli. La prima tranche di aumento salariale di 50 euro sarà corrisposta con la ritribuzione del mese di giugno 2024. Seguiranno altre quattro tranche erogate nel corso della vigenza contrattuale, due di 40 euro e le ultime di 30 e 40 euro. Le parti, considerate le criticità che caratterizzano il comparto della ristorazione collettiva, hanno concordato di attivare tavoli tecnici sul monitoraggio delle dinamiche macroeconomiche e inflazionistiche. L'intesa interviene poi sul sistema di classificazione, aggiornando e implementando l'articolato all'evoluzione del settore sul welfare contrattuale, con particolare attenzione all'assistenza sanitaria integrativa, con un aumento del contributo mensile destinato al Fondo Est a totale carico delle imprese di 3 euro a far data dal 1 gennaio 2027. Per le lavoratrici e i lavoratori part-time è stato inoltre confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa. E ancora significativi interventi sulle politiche di genere e sulle condizioni delle donne e lavoratrici, prevalenti nei comparti interessati dal rinnovo. Pari opportunità e tutela della genitorialità, con l'aggiornamento normativo alle previsioni di legge, fanno il paio con le nuove tutele per le vittime di violenza e per il contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con percorsi di formazione e informazione dedicati e commissioni paritetiche. Per la prima volta nell'articolato normativo sono stati inseriti ulteriori 90 giorni di congedo retribuito al 100% per le vittime di violenza, in aggiunta a quelli previsti dalla legge, con la possibilità di essere trasferite e di essere escluse da turni disagiati. Su salute e sicurezza le parti entro il 31 dicembre 2024 costituiranno una commissione paritetica che affronterà le tematiche al fine di rivedere l'impianto contrattuale. L'accordo impegna le parti ad effettuare, ai sei mesi prima della scadenza del contratto, un confronto funzionale a valutare possibili soluzioni correlate al periodo di vacanza contrattuale, ai fini dell'effettiva diffusione del secondo livello. E qualora non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, ogni datore di lavoro dovrà erogare, con la retribuzione del mese di novembre 2027, un elemento economico di garanzia. Soddisfatti i sindacati che, in un comunicato unitario, hanno sottolineato l'importanza di aver rinnovato il contratto nazionale con significativi aumenti salariali e positive modifiche normative, respingendo richieste di scambio diritti salario che le controparti avevano portato al tavolo negoziale. Il segretario generale della Fisaskat, Davide Guarini, ha evidenziato l'intervento sul recupero del potere di acquisto e l'avanzamento della normativa coerente all'evoluzione del settore. A fargli eco il segretario nazionale della Federazione Cislina, Diego Lorenzi, impegnato al tavolo di trattativa, insieme al segretario generale aggiunto, Vincenzo Dell'Orefice. Il sindacalista parla di risposte apprezzabili, non solo da un punto di vista economico, ma anche normativo, con il potenziamento del welfare e di primari istituti della disciplina del rapporto di lavoro. Il nostro auspicio, a concluso, è di completare con le altre associazioni imprenditoriali rinnovi contrattuali attesi nel macro settore del turismo, dove altre centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori del comparto ricettivo alberghiero, dell'industria turistica, delle agenzie di viaggio e del comparto termale attendono risposte economiche normative. Ristorazione collettiva massiccia l'adesione allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende aderenti ad Anir e Angem, con una media superiore al 70% a livello nazionale nelle mense scolastiche, con punte anche del 100% a livello di singolo appalto. Migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno preso parte ai presidi, alle manifestazioni organizzate a livello territoriale in tutta Italia. Alla base della protesta, indetta nella giornata del 4 giugno dai sindacati di categoria Filcams, Fisaskat e Wiltux, la diffida delle due associazioni imprenditoriali ad intraprendere qualsiasi determinazione inerente al comparto al tavolo di trattativa, nel frattempo concluso positivamente con la sottoscrizione dell'intesa. I sindacati, che hanno stigmatizzato i contenuti strumentali e mistificatori della comunicazione di Angem e Anir, volta in prima istanza a condizionare il confronto di rinnovo del contratto nazionale dei pubblici esercizi della ristruzione collettiva, commerciale e turismo, hanno pertanto deciso di avviare la mobilitazione per contrastare la posizione assunta dalle due associazioni datoriali. Il rinnovo contrattuale, nel frattempo raggiunto nel settore, hanno sottolineato Filcams, Fisaskat e Wiltux in un comunicato unitario, manda un chiaro segnale alle aziende aderenti alle due associazioni imprenditoriali perché riconosce la specificità del comparto e le chiama ad un'assunzione di responsabilità, in mancanza della quale il sindacato continuerà a mettere in campo le iniziative di lotta necessarie, volte a tutelare il giusto riconoscimento del contratto rinnovato a tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore. Decathlon Italia prosegue la mobilitazione di circa 6.000 dipendenti della catena di abbigliamento sportivo contro l'indisponibilità aziendale a definire un contratto integrativo a distanza di oltre 12 mesi dall'avvio dei negoziati, con una nota trasmessa alla direzione societaria. I sindacati di categoria Filcams, Fisaskat e Wiltux, confermando lo stato di agitazione avviato il 27 ottobre dello scorso anno, hanno proclamato un nuovo pacchetto di 16 ore di sciopero, con una giornata di sciopero di 8 ore a livello nazionale, indetto per sabato 8 giugno e ulteriori 8 ore da organizzare a livello territoriale. Non verranno inoltre garantite le ore di lavoro straordinario supplementare e tutte le forme di flessibilità previste. Nella missiva, le tre organizzazioni sindacali stigmatizzano l'andamento delle trattative, caratterizzate da stop e riprese inconcludenti, unicamente finalizzate a dilatare i tempi dei negoziati. Decathlon Italia non comprende i bisogni nei tempi delle lavoratrici e dei lavoratori, si legge nella nota unitaria. In Italia da 30 anni, con fatturati di anno in anno di milioni di euro, senza mai riconoscere né stabilità organizzative, né retribuzioni di sostegno condivise, come ad esempio i ticket restaurant, prosegue la missiva. I sindacati puntano il dito anche contro l'utilizzo dei contratti part-time, con il massimo della flessibilità, lasciando i lavoratori prigionieri delle richieste dell'azienda, nonché contro un regolamento applicato unilateralmente dall'azienda, che di fatto in parte modifica le norme contrattuali vigenti. Alla mobilitazione allo sciopero dell'8 giugno hanno aderito anche le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione, con le federazioni sindacali di categoria, Felsa Cisl, Nidil CGL e Wiltemp. I dipendenti di Decathlon Italia continueranno a lottare per ottenere condizioni di lavoro più eco e dignitose, sperando in una rapida risoluzione dell'avvertenza. OBI Italia sono in stato di agitazione gli oltre 2.000 dipendenti della società tedesca leader in Europa nel settore del bricolage, presente sul territorio nazionale con 52 punti vendita, alla base della mobilitazione indetta dai sindacati di categoria Filcams, Fisaskat e Wiltux, le recenti decisioni prese da OBI Italia, che tradiscono i principi di corrette relazioni sindacali. Nel merito la direzione aziendale ha approntato un regolamento unilaterale non condiviso con le organizzazioni sindacali. Filcams, Fisaskat e Wiltux, in un comunicato unitario, hanno annunciato eventuali ulteriori azioni sindacali che verranno di volta in volta comunicate e hanno stigmatizzato l'atteggiamento dell'azienda, accusata di aver scelto di ignorare deliberatamente le richieste del coordinamento unitario delle lavoratrici e dei lavoratori, nonostante i 14 mesi di confronto e i numerosi sforzi per migliorare la proposta del contratto integrativo aziendale. Questo comportamento, prosegue la nota unitaria, ha minato gravemente il clima di fiducia necessario per una collaborazione efficace e per un qualsivoglia percorso di condivisione. In attesa di valutare le iniziative da intraprendere, i sindacati invitano le lavoratrici e i lavoratori a non effettuare ore di lavoro straordinarie e supplementare, con il blocco totale del lavoro festivo e domenicale, oltre il limite normativo delle 25 domeniche annuali. Filcams, Fisaskat e Wiltux sollecitano l'azienda a rivedere radicalmente la sua posizione e ad avviare un vero dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali, riaprendo il tavolo delle trattative con l'impegno ad instaurare relazioni sindacali autentiche, basate sul rispetto e sulla collaborazione. Paris, Waterhouse, Coopers, Italia, la Fisaskat CISL nazionale ha siglato con la direzione della Società di Consulenza di Direzione Strategica un nuovo accordo sullo smart working. L'intesa in vigore dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2028 è rivolta su base volontaria a tutti i lavoratori con mansioni compatibili con l'organizzazione del lavoro e regime agile. Il limite massimo di giornate lavorabili in smart working è fissato nella misura del 60% su base settimanale. Ai lavoratori ammessi alla prestazione in modalità agile verranno applicate le medesime condizioni economiche e normative previste per i lavoratori che svolgono la prestazione presso la sede aziendale. A ciascun lavoratore verranno inoltre assegnati, qualora non ancora in dotazione, gli strumenti necessari come personal computer e portatile smartphone, il cui utilizzo viene disciplinato da un'apposita polisi aziendale. L'intesa prevede anche la flessibilità dell'orario di lavoro in entrata e in uscita tra le 8 e le 10 e le 17 e le 19. Rimane fermo l'obbligo di presenza per le attività da svolgere anche presso il cliente, in modalità di gruppo o in presenza, le quali conserveranno priorità assoluta rispetto a qualsiasi diversa organizzazione del lavoro programmata dal lavoratore in regime di smart working. Per tali attività è confermato il rispetto degli orari di lavoro individuali, stabiliti da ciascun gruppo di lavoro o degli orari di lavoro del cliente. I lavoratori addetti al front office, con particolari mansioni o coinvolti in particolari progetti, sono tenuti a garantire fasce orarie di connessione dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, ad esclusione dei lavoratori part-time che osserveranno l'orario concordato nel contratto individuale. In ogni caso, resta ferma la pausa pranzo di un'ora o di almeno 30 minuti e la durata massima della giornata lavorativa è fissata in 12 ore, per 48 ore settimanali massime. Al di fuori delle fasce orarie di lavoro concordate, il lavoratore è tenuto a disconnettersi nei periodi di riposo giornaliero e settimanale previsto dalla legge. Il lavoratore e la società potranno inoltre recedere dall'accordo con un preavviso di 30 giorni. L'importanza dell'accordo è ribadita dal funzionario sindacale Daniele Meniconi, impegnato per conto della Federazione Cislina nel confronto con l'azienda. Il sindacalista ha sottolineato come il lavoro, soprattutto quello del terziario avanzato, è cambiato e cambierà ancora nel prossimo futuro. Basti pensare al ruolo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo quindi farci trovare pronti come sindacato per gestire e non subire tali cambiamenti, ha concluso il sindacalista. Il Tg Lab è consultabile sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. Sei un lavoratore autonomo o un libero professionista che opera nel settore del commercio, del turismo e del terziario? Lo sai che hai la possibilità di incrementare il livello della tua pensione futura? Come? Aderendo a Fonte, il fondo di previdenza complementare del terziario. Basterà andare sul sito www.fondofonte.it, compilare l'apposito modulo, allegare i documenti necessari ed inviare il tutto tramite PEC all'indirizzo protocollofonte-legalmail.it. Una volta perfezionata l'adesione, riceverai una lettera dal fondo con le indicazioni relative al tuo codice aderente e alle modalità di accesso all'area riservata, in cui verificare la tua posizione previdenziale. Ti stai chiedendo come versare a Fonte? Semplicissimo! Potrai versare i contributi in qualunque momento dell'anno, attraverso la compilazione dell'apposito modulo ed effettuando il relativo bonifico bancario, o se preferisci, facendo tutto online dalla tua area riservata. Quanto puoi versare al fondo? Il versamento annuale non può essere inferiore ai 1.200 euro. Pensaci, con soli 3 euro al giorno puoi crearti un salvadanaio che servirà a costruire la tua pensione integrativa. Ti ricordo che l'adesione a Fonte comporta alcuni importanti vantaggi. La deducibilità dei contributi versati dal reddito fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro annui. La rivalutazione dei contributi versati con rendimenti in base alla linea di investimento prescelta. Una fiscalità agevolata sulle prestazioni erogate dal fondo. Una tassazione sui rendimenti più bassa rispetto a quella applicata dagli istituti bancari. E non ultimo, costi di gestione molto bassi. Ma allora cosa aspetti? Vai sul sito www.fondofonte.it nella sezione modulistica adesioni liberi professionisti e lavoratori autonomi e troverai tutte le informazioni che desideri. Con Fonte costruisci il tuo domani adesso. Grazie a tutti.